Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su Dying Light 2 dopo un bel po' di assenza. Buonasera, buonasera a tutti. Già, diciamo che prevalentemente è stata colpa mia, l'assenza della nostra cooperativa. No, ma devo dire che mi ha fatto bene anche a me, perché non è che ho sentito la mancanza. Entrambi siamo demotivati sicuramente. Poi io avevo ancora un po' meno, un periodo un po' turbolento al lavoro, quindi ho preferito più concentrarmi su cose che portavano più allegria. Che questi bug... ovviamente non parlo di lei, signorina Lara, sto parlando del gioco. A me ci mancherebbe, ovviamente a me fa sempre piacere stare in compagnia, anche perché come ho detto proprio oggi, che ho registrato un vlog, ho detto proprio che noi usiamo queste cooperative, questi momenti di cooperativa, anche per stare un po' insieme, no? Per farci due ghiacchie, non è che registriamo e poi ciao ciao, cioè, no? Si ghiacchierà prima, si ghiacchierà dopo. E infatti anche adesso è un'ora e un quarto. Anche se è un ghiacchierà. Quindi forse riusciremo a fare un episodio. Si, probabilmente. No, beh, io domani dai posso dormire un po'. Anch'io. Ah, ecco. Io lavoro mattedì. Ah, ecco. Io vado al pomeriggio, però a Pasqua sono a casa. Dai, dai, comenda, dai. È la mia prima Pasqua, mi pare, eh? Eh, sì, sì, esatto, sì. Ho sempre lavorato, io ho dieci anni che lavoro. Beh, però, insomma, cioè. Dica. Le ha fatto anche bene lavorare di Pasqua, vedo. Eh, sì, beh, certo. Eh, dai. Fa apprezzare di più il fatto che sono a casa. Eh, esatto. Va bene. Va bene, allora, del gioco... Non ci ricordiamo niente. No, niente, proprio. Ma guarda, non vado neanche a dire i documenti, in realtà non me ne frega niente. Cioè, per me possono morire tutti questi qua. Sì, anche per me. Cioè. Che tanto, voglio dire, ormai il mondo è finito. Sì, ma chi se ne rega. Ma poi, comunque, anche noi come personaggio dobbiamo morire, no? Perché siamo infetti. Ah beh, se non c'è la cura. Eh, se non c'è la cura. Eh, tecnicamente, sì. È destinata a morire, appunto. Guarda, io prevedo che a fine gioco una cura la trovino, eh, così. Così, la butto lì. La trovano, poi la usano, poi fanno esperimenti su questa cura nuova, e poi fanno il terzo timeline che si attacca a questa ceppa. No, guarda, io... Abbiamo già dato. No, no, basta. Poi, ecco, io... Poi i commenti finali ne parliamo bene. Però io, cioè, non è che sono un fan arcanito di zombie o... Cioè, nel senso, mi piace. Sia come gioco o come film. Cioè, non è che sono uno che li cerca, ecco. Cioè, non so se mi spiega. Beh, sì, neanche io vado a caccia dei zombie, però... No, cioè, nel senso, mi piace, però non sono un fan talmente arcanito che non può farne a meno, ecco. In questo senso. No, no, certo, quello anch'io. Cioè. Altrimenti giochiamo a The Walking Dead. Eh, io l'ho giocato a The Walking Dead. Eh, lo so. Eh. Lo so, lo so. Eh, molto bello. C'era una coppia, se c'era una coppia si poteva andare a vedere. Eh, no, è un narrativo. Eh, fai, appunto. Appunto, dico. Eh. Va bene. E... Parliamo con Tizio. Sì, dobbiamo andare a vedere. No, io mi ricordo che abbiamo salvato Aitor. Eh, sì, quello che è quasi morto per colpa di Aiden. Per colpa nostra, sì. Sì, appunto. E mo' tocca vedere se parla, che fine famo noi? Eh, ma chi si fa? Reagiamo. Ma sì, sì, ma ci siamo tutti. Ma sì, tanto. Quindi. Ma no, mi aiuti lei. Dica. La ricordate. Dica, dica. Dica, dica. 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 They said something about a plan? The VNC Tower. Now that the lights are on, we can use the TV antenna to broadcast our call for mobilization. But first, we need to get to the top. And that's a long road, what do you want to know? Tell me more about this radio station on the tower. It's the tallest building in Villador. It was once a symbol of the city's greatness, now a symbol of its fall. How do you say that? questa antenna potrebbe portare la città un po' di più ma qualcuno che arriva là e tenta di farlo guarda cosa succede niente buono, credo è vero, la città potente di potente la città è una città speriamo che sarà diverso questa volta, ci saranno la città con le lampi UV è di me di più è certo, beh adesso guarda, scommetto che noi da soli senza pistole riusciamo a fare tutto solo con le armi dimmi di più wait, wiped out? you mean every last night runner? that's the problem Frank had it all carefully planned but for his plan to have worked he'd need everyone all hands on deck and that didn't happen? not everyone believed in the plan so there was a rift Frank thought they'd come around in time but not everyone came around after all the plan went to shit but it was horrifying those who heard the night runners screams on the radio that night still have nightmares about it what happened to the group that refused to join the mission? split up drifted apart whoever led the descent was branded a traitor and the night runners faded into a shameful memory after that we shouldn't waste time on the past we need our heads in the game here and now bene il cammino bigissimo ok let's get going are the lights in place? they would be if Juan from supplies would just do his job for once I take it that he didn't he's been playing hide and seek the last few days and he's late getting on my nerves so look in on Juan first see what his deal is and when you do find him kick him in the ass tell him it's from me va bene va bene va bene io nel frattempo mi sono pesata un'altra caramella torcia UV sai che roba ma un'arma allora torcia UV vai leggi hai ricevuto una torcia UV ti permette di spingere indebolire tutti gli infetti soprattutto i virali e i notturni per usare la torcia UV equipaggiala con freccia a sinistra e ti premuto le letti per usarla ti d'occhio il grado di carica della torcia quando arriva a zero dovrai aspettare che si ricarichi illumina gli infetti con la luce UV finché non cadono a terra in questo modo saranno vulnerabili per qualche secondo tutta questa possibilità per attaccare ma io non sono così fiducioso questa lampada però allora aspetta un attimo però la lampada no non era questo ce l'ho equipaggiata io e perché io no perché perché ah devo tenere premuto guarda ma me so teletrasportata ma io boh aspetta dove l'hai dove dove ah aspetta ho premuto freccia a sinistra forse è l'hai equipaggiata da sola prova a vedere no un po' di volte premi un po' di volte no no allora vai nell'inventario vediamo inventario inventario questo attrezzo ma io zaino zaino oh io non ce l'ho la torcia UV te lo dico aspetta deve andare inventario accessori aspetta un attimo questo magari togliamo cinque ah si allora dimmi dimmi inventario accessori e gli ti metti la poi ci sono i coltellini da laggio ah eccola vaffalavo e allora che mi levo però ah mi levo questa ecco fatto a posto ah io ho attivato cosa ok vabbè il primo faceva cagare qua magari l'hanno potenziata però ah il punto di togli hai messo un punto di riferimento su B che non serve io? si ho da un brignette dalla mappa mappa ok tolto? si 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 ok va bene scendiamo anzi posso saltare io mi ricordo più niente ah buono non è un problema ma dove stai andando? eh non lo so stavo seguendo l'indicatore ma qua è buio aspetta di qua? ma non posso saltare ah di qua aspetta ecco la porta qua arrivo arrivo che so cocomeri? ah no so caschi che cos'è? luogo sconosciuto ma come luogo sconosciuto qui? ma lo vedi tu? punto interrogativo a un metro luogo sconosciuto screenshot screenshot luogo sconosciuto io vedo un punto esclamativo io vedo un punto interrogativo a un metro c'è un luogo sconosciuto c'è una cazzetta con i caschi il luogo sconosciuto vogliamo informazioni non so c'era scritto c'è un luogo sconosciuto looking for Juan Rainer you don't appear to be on a schedule it's urgent the commander sent me so monsieur Jacques sends you? Jacques? Jacques Matt monsieur Rainer is not here I can't take a message no I need to talk to him in person where is he? unfortunately I can't help monsieur Rainer's worry about anyone's business wait if he must anything else I can't help I can't help I can't help wait if he must you're not fun what about your boss? what does he do for fun? monsieur Rainer is well known as a connoisseur of the finest things in life food, drink and pretty much anything that works on two legs is he near any of these so-called finer things right now? maybe I can drop in on them there nice try but no I won't say ma it's not going to be happy Juan is not particularly concerned with the little mages feelings do come again comunque dovremmo essere sempre in agenda noi ma infatti cioè voglio di più i portati di noi e quindi? e quindi? in attesa è un altro gioco vorrei per proseguire getting settled in the city? working on it Meyer and Jack sent me this supply interesting bunch not like any of the other PKs I've met that might be because they're not PKs eagle eye business is their true faith I see anyway I can't track down their boss Juan? he likes to make himself scary probably lurking around the fish eye with itsy bitsy little hands can you imagine the night? can you imagine the night? the canteen? the slick bastard even got his own table there bribed the cook to bring him off menu goods he lives like the fall never took place I'll look for him there and good luck finding him and good luck if you do find him I've already learned not to worry vabbè eeeh dov'è? il cattone? good luck and the good night dobbiamo andare su si eh la van la van la van rosario rosario per me è rosario e basta e basta si si ancora su è l'unico nome che mi ricordo rosario rosario vabbè mi sono perso ecco cioè ci hanno fatto andare giù per torno a su io e perché non c'era joan joan la van se la vi saluta rosario come ho scoperto fortezza scusi come ho scoperto fortezza non eravamo dentro infatti vabbè non ti stupire ormai più di niente ma no infatti ormai c'è pietra sopra oh quanta luce oh usciamo di giorno ma va ma aspettando ok si si può morire a 342 metri a 342 metri non mi ricordo più i comandi allora per il salto ok possiamo volendo prendere un il parapendio era così che si l'ho usato utilmente fa niente trovare allora io proverei a andare qui metilo su ah si tiri su ecco vediamo un po' ecco qua ci stanno i bocchottoni allora com'era che si ok così ci si salta e ti premuto x per per o così ma guarda che coglione ma sei un coglione oh ora c'è un atto ascensore oh oi 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 muro sì 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 è vero ah cazzarola ma dove va oh boh non ci sto capendo niente mi sono incazzata lei mi segua mi segua io sto andando lì al diriscopolo chi al diriscopolo a dove in per di là in per di là ma no sono sceso troppo questo e attenzione attenzione allora io sto volando un po' vabbè io ho planato in maniera realistica ma facciamo vabbè io sto facendo cose che voi umani non non ma perché c'è sta musica perché ne so ma adesso non c'è questo che è ah no le musiche probabilmente partì partono avanti sì ma non c'entrano niente proprio con quello che stiamo facendo non ci arrivo manco io ah qua sì qua sì dove dove c'è il coso giallo il coso giallo no l'ho mancato ma guarda che sei un coglione però Eden va bene che io non gioco da un po' però insomma ecco mo se chiamata la musica vabbè hanno parole ah io a me c'è silenzio sì no a me c'è musica soft chi? a lui? lui sì parla oh dica ho premuto ah ok a me c'è Chief Jack thinks he can scent his terrier and everyone will wet themselves in terror but what can I expect he can't tell the difference between champagne and a crystal chalice or water from a dog's bowl he hasn't announced a refinement isn't that right Vinnie I don't know don't be afraid it's not like Jack is gonna march in and have you hanged at least not now ah Vinnie what will you grow a spine you want my attention aiden show me you deserve it what can you offer me guarda una mazzata in testa minaccia che di aiuto convinci non era quello che è introvabile non si si infatti sta mangiando vedi che vogliamo fare io minaccerei io cazzotti minaccia che di aiuto convinci Joan che vale la pena fidarsi vai andiamo con questa ma ma convinciamo ma è sempre la pena mi raccomando look I could help you out as easily as I'm trying to help Matt I don't doubt that I've heard you were a pilgrim but you're new here smashing the skulls of a few peasants doesn't mean everyone wants to lift you up on their backs you have to be more subtle with people everyone has their own design their own price your pitch just isn't working for me quite yet try again ah va bene noi ci abbiamo provato ma essere gentili adesso ciò non lo minacciamo ma si pure how about a court martial Jo how to court martial you have no idea you turn to do you who would hash out the contracts with the suppliers who would feed the army provide it with weapons in clothing a week without me and the peacekeepers will be left with nothing supplies is everything Vabbè allora Allora c'è una cazzola Si Ma ascolto non picchiamo Ma si ma proprio a sangue Eh Vabbè Niente Non si può fare niente Mortale o agar Mortarci e slarci Sì probabilmente Dovevamo dirgli Chiedi aiuto Cioè fare un favore Per un favore Sì ho capito Basta Cioè dobbiamo sempre aiutare noi Ho capito Che cavolo Chi se ne frega È vero Ci devono rispettare Eh Sennò botte Botte Sennò botte Sennò botte Sennò botte Sì Bian touch Ci si arriva solo col panavendio Non lo faccio utilizzare Perché io non reggo mezzo secondo Posso panavendio Non si capisce perché Ma è l'appartamento del micenate Eh no Allora dobbiamo andare in per di su Aspetta Guarda Lì c'è un ascensore Aspetta Ma ci arriva assi Ma vabbè ma da là che fa Vabbè forse tutto il giro Dell'assi Ui Vabbè non l'ho preso Si prende da giù Vabbè vado giù Allora Aspetta Ui Ma perché non mi va Perché Perché mi scende Questo coglione No La levetta Devi tenerla verso il basso Verso il basso Se la tengo verso il basso Verso il basso Atterlo 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 Giù giù Atterlo Capì Vedi Vedi Vabbè Comincia ad andare da quella parte Eh sto andando Infatti Arriverò Che devo fare Oh Faccio un altro ascensore Io lo prenderei Ui Eh niente Ma io Che bello Eh però ci arrivi solo Parapendio Eh capito Come faccio Teo Attenzione Vabbai Guarda dove sono Io ci sono Quasi Aspetta Forse No non lo so No vai su Vai su No no manca ancora Manca ancora Ma vabbè Cioè a me Sto parapendio Mi ha funzionato Il primo giorno Che ci hanno dato Poi Ha funzionato No perché non ho preso La ventata D'aria calda Mi scusi Ma mollati Ma mollati Mollati Mi giro Mi giro Ahimè c'ero sopra Ma c'ero sopra Vabbè Basta Ah perché ecco Tocca ma là sopra E ma come c'è Lioio là sopra Ahimè c'è Eh oh Eh 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 Oh Ce se vanno da qua Oh salve 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 Salvino Eh Eh qua sopra Non è che per caso C'è Ci sono le scale Interne qui Oddio L'ho preso L'ho preso Ma no Si arriverà da fuori Secondo me Oh oh Così Opla Oh oh Eh Ah Azione Ah tu sti là Si Eh sei più avanti di me Eh Ma io sono entrata dentro Però eh Spero Andare sul palazzo Tipo lì Ah lì c'è Ah posto C'è l'ascensore qua Aspetta Come c'è l'ascensore? No Nel palazzo vicino Aspetta Ah Ok vado su Ok Qua ci abbiamo Questo Che te sniffi Questo sniffa Opla Ma io ci sono quasi Mi sa Vediamo Eh però qui c'è un ascensore Molto probabilmente Ok Ci si può andare Oh io ci sono arrivato Aspetta Eh Eh Beato te Eh io Boh Ma forse ci si arriva con l'ascensore Però eh Qua c'è un ascensore No no Eh Nel palazzo vicino Nel palazzo vicino? Eh ma non da questo lato Oh porca Dal lato opposto Aspetta Dove sta andando? Aspetta fammi vedere un attimo Fammi provare Ma non credo C'è una tromba C'è la tromba Dell'ascensore Se c'è Da qualche parte Devi portà Magari è chiuso Ma no Ti pare? Ecco l'aperto Vedi Ah lei dice 9 metri Ci sto Ah Oh Oh Di qua Di qua Non mi faceva passare Ah Ecco Di qua Ti hai visto Eh Eh Troviamo Qualcosa di valore Sì Sì Allora io Portiamo via il frigorifero Secondo me È di valore Secondo te Mi traconserva il cibo Sì Beh Il cibo è vita Nastro C'è un nastro qui L'hai preso? No Il pianoforte Ce lo facciamo Ma io un pianoforte Lo so anche un po' Suonicchiare Ah sì 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 Allora suoni Eh non si suona È rotto È rotto È toccato perché Tu vuoi lo facciare No Spera Ecco c'era l'istinto C'era l'istinto È vero È vero Ah aspetta L'istinto com'era Ah così Così È vero È vero È vero È vero Qui c'è un'arma Ma è più Scazzo della mia Ecco qua c'è un indizio Esamina E chi è Daniel Keep looking Ah dobbiamo andare sopra Ci fidiamo così Ci sono dei zaini Non è che ci stanno Uh c'è una lettera di Jessica Eh un attimo Non ci arrivo Eh no aspetta Beh zaini L'hai preso anche tu E tre I grassi Sì Mi dispiace Dopotutto se non ci sia posto per te sull'elicottero Non preoccuparti Ne invierò un altro Dovevo prima mettere in salvo la collezione Con affetto Ah beh La collezione Certo certo Una parolaccia Oh scusi Ah davvero Mi sono ricordata Aspetta qua c'è un altro indizio C'è un altro indizio Guarda qua Ah dall'altra parte L'altra parte Sì di qua di qua A dove A qua c'è una porta da scassinare Più di un indizio Cioè qui T'aspetta a te Aspetti Aspetti Sì sì Intanto voglio Aspetti e spera E tu le mani Nella nizza Eh non c'è E ho scassinato Ma non c'è niente Scusi Ah Che vergogna Indizio Dov'è? Esamina Sulteto E quindi dobbiamo andare sul tetto De qua De qua De qua la scala Ah ecco perché la Oh Si è fatto notte All'improvviso A te pare A te Uh qui abbiamo pure l'elicottero Leo guarda Eh no Non c'è Comunque È vuoto Ma arriva E ci porta via Allora Eh sì Allora aspetta un attimo Riflettiamo un attimo Non te ne andare Eh? Non te ne andare Che c'è? Fammi riflettere un attimo Ma dove vai? Io sto sempre pensando a quel A quel gretto Eh ma no Aspetti Aspetti Magari Non so Ah beh quindi Nel momento Nel momento Nel momento Vabbè Sarà quello più alto Sì sì È il più alto di tutta la città Eh allora Non ci siamo Non ci siamo Quindi l'elicottero no No eh Non lo puoi prendere Non lo puoi chiamare Ah guarda Questo è rimasto stocchito Questo Sigarette Raccogli Ah fuck Non c'è nessun peggio Non c'è nessun peggio Tutto è stato distruttato Hey Luan Abbiamo trovato il nostro Collettatore Non c'è nessun sign Di suo collezione Luan Ehi Sei là? Ecco Jesus Aiden Ho detto che stavo Sì Ok Prima cosa Non c'è nessun Ciò che c'è Una bottola di whisky E una vodka At least Whisky Is the good stuff Juan likes the good whiskey Maybe if you get him shitfaced He'll loosen up So to speak Qui dobbiamo andare in whisky Eh prendiamo 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 tutte e due Ecco E' presi? Ok Sì Fai alla festa Di Di denior Opzionale Ma no c'è uno scritto pure Opzionale Opzionale Che vogliamo fa' Eh facciamo anche Opzionale Qua è di là Della mappa Metto Non posso Non posso mettere il segno Che è il due o l'uno? Due il due Il due ok S'abbassa Non sei alza Che devo fare? Ti giuro che io Faccio quello che faceva all'inizio Non va Non va Eh non va Che devo fare? Mo da là come ci arrivo? Ma si manci nel vuoto Eh sì Certo So io che moro No Oddio Ecco Ehm Da dove cazzo Ero là Ehm Niente Non va Ma no Devi Deve Metta analogica Verso il basso Allora E vedrai che Sta su per un po' Ti dico di no Eh 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 Ma io lì Come ci arrivo? Oh da Oh qua sotto C'è pure gente Tanta gente Oh lì c'è un ascensore Ehm Dove sei? Mi vedi? Vabbè Io vengo a piedi Proprio 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 A piedi Mi vedi? Sono entrata Entra in autobus Non ci voglio credere Cioè Posso dire? Ma mi stai vedendo? No 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 Sono un attimo impegnata Adesso iniziamo il seguimento Ecco Prendo questo Prendo questo Prendo questo Ma io giustamente posso guardarti col binocchio Aspetta Ecco guardi guardi No non ti vedo più Beh Uh Vai Olè Poi poi Aspetti un attimo Aspetti un attimo Aspetti un attimo Adesso prendo questo Non lo sto inquadrando Mi butto Mi butto Ma come va giù? Per forza Il parapendino Non mi regge Questo coglione Ecco Ti vedo Allora Aspetta un attimo Aspetta un attimo Là Vado là Potevo pure usare Cogliona Cogliona Potevo pure usare C'era il passaggio Ma non seguire me Segui il 2 Che poi è Cos'è qua? Oh Mollalo Viene Ho un punto abilità Per cui Volevo Vediamo Vediamo Edita parkour Salve Salve Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Scrive le poste Cos'è sul muro In combo più Una fatica Ah si 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 Spendiamo questo Ma io non ce l'ho a bene Perché scusa Eh perché si è che non è il livello giusto Tutta questa fatica Ho fatto una fatica Ho fatto Farina fino a qua sopra Staviamo costo tizio Sì 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 Ho fatto un regalo Ma almeno ho qualcosa Che mi chiedere Vabbè Non so La Vaan è a barra Ok Scusa Ho fatto un regalo E questo Capone Ecco la Vaan Tieno più coglioni Aiden You came You invited me Didn't you want me here Let me get a bottle So you can catch up with us Ro Off duty Hmm Listen You know how stressful Things can be sometimes You get your orders They don't make any sense You're fighting the clock To get shit done Oh I feel you Trust me So You made it La Vaan won Who won? Is this about some bet? Yeah with Danior She was sure you'd come Him Not so much It's almost as if It mattered to her That's unusual Here Aiden Drink Nicholas's finest booze We were about to play a game No La Vaan We weren't Come on I'm out Yeah Count me out Too drunk already A bunch of losers Aiden Are you playing? Uh What's game? Don't bother You'll just end up really drunk And humiliated Aiden The longer we talk The more time we give this grump To back out You in Or out Beviamo Beviamo Ok Let's do it My man Rules are simple You either Answer an awfully personal question About yourself Or You must perform the dare Ok So if I don't want to answer the question I get to pick the dare You wish We decide whether it's a truth or dare If you don't do as you're told You drink So Have you slept with anyone in Villador? Non mi risulta No Di la verità Eh No Are you for real? Maybe the guy has standards Fall in love first and all that crap Yeah Good luck with that Not everyone is like you Ro Ok Your turn I want to hear you play Fuck off Wait What do you mean I'll drink Forget about it You play an instrument Never mind I drink Moving on She used to play the ukulele Really? Guys Moving on Aiden You play for Ro And I dare you To ask Ro To sing It's Awful Ma Che dia Ro Di cantare Che gioco There Let's hear those pipes Ro Ok You asked for it You're my ragamuffin You might think I'm tough and all But I always have I have a ball With you You're my ragamuffin I know it's just a silly name But you set my heart aflame It's true Good lord Shoot me Shoot me dead before I have to hear another note Wow man That was That was something Ok Enough of this Anything you want to ask the master assassin here I always wondered about that hit list Shut up bro It's not your turn Hmm Mmm Come ha iniziata la vista nera Cosa hai fatto dopo che sei furgita da Waltz Si Poi esto Questa qua ma... ...that's another question. Drink. No, he's just making you answer the first one. Who cares what he asked? It started way before that. When I escaped from Waltz. Frank helped me. He showed me that there's something else I can do with all my anger. Back then I thought I'd join them. Be a night runner someday. Who was I kidding? They were wiped out at the VNC tower. Frank lost almost everyone. Night runners fell. Frank started to drink. Gave up on life. On himself. So... I'm not a night runner. But at least I have my list. Good night. Good luck. Did I ask the wrong question? That's the beauty of this game, Pilgrim. Sooner or later, you get to the wrong question. I'll see you soon, I guess. The game is not as bad. I'm not sure what the hell is going to do with this game. The game is stupid, I can say. Ah, yeah, I'm not sure. Ah, ma... C'è l'indicatore su di lui ancora. Eh. Cosa? Diga. Diga. Joe. Here you are. Thank you. Thank you for the vodka. Grazie Let's drink For me And another year in this Shit hole You're not the worst You know Why are you finally warming up to me Nah It just means there are worse assholes And that I'm drunk Where's Levan I saw her with you Now we played the game And I asked the wrong question About her life after escaping from Waltz Gajo, gajo You got her thinking about the past Listen And I'm not telling you this Because I like you I don't even fucking know why I am telling you this But never Never ask Levan about her past You get it? Good Now get lost It's my birthday Potevi dirlo prima Vabbè Andiamo Dove dovevo andare All that Medicatore Io mi lancio Non riesco Tutto lanciate che io poi arrivo sì sì arrivo ma sì ma verso il basso dai c'è eh sì sì verso il basso sì sì vabbè vabbè quanta strada abbiamo fatto no ma pensa se dobbiamo arrivare sopra quel come ci arrivo io non so e ti lancio una corda non male l'arve brutta ecco qua la nave parlava rosario doso no bisogna entrare di qua ah ma è la base cos'è dei pacificatori sì oh qui c'è un sacco di gente pure la e mo salutala sì sì sto salutando sto salutando eeeh sono un saluto fatto una mezza cappellata allora io l'aspetto qui seduto eh aspetti eh aspetti che arriva sì sì ma io qua sotto la luce UV mi sto abbronzando ok ci sono ci sono ci sono aspetta però perché ti vedo salve lei che fa qua devono essere presenti ma c'è c'è uno qui vabbè scendo 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 subito col parapendio ecco 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 siamo tornati a bomba sì 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 che qua parte la musica simbo ma vabbè musica etica l'entrata dei gladiatori vabbè pochino salve salve come ma ma dove dobbiamo andare scusi qual è la via giù 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 ogni tanto la vedo scivolare sa eh perché ho la sciolina su le suole ole e ci fanno riusci vabbè parole ma scusate insomma ma poi con i vestiti scusa ma no 16 year old highland single malt modelled a year before the pandemic broke out ma aveva già dei bicchieri pronti normale beviamo ma aveva già dei bicchieri pronti normale aveva già dei bicchieri pronti normale beviamo ma lo sta facendo ci sta mettere qualcosa c'è tre ore saremo no 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 o la no bu no ma anche il plettino pietra non non Perché è pericoloso? Sì, è vero? Nessuno ha provato questo per circa una decada. Perché è pericoloso. Quindi credo che è pericoloso. È quello che i lampi sono per. Ma i lampi necessitano l'elettricità per riuscire. L'ultimo che ho ho sentito, l'acqua non è fluendo lì. La gente ha cercato di prenderlo senza potenza. I eroi e i tuoi stessi. Tutti sono stati volantili. Nessunque. Ma che è il problema di fare. Mi ha lo scopo, perché qualcosa non è vero. E tu senti anche questo? Certo, Aiden? Matt ha chiesto di protegere la città di la città di l'euro di l'euro di l'euro di l'euro. Quindi dovremmo riuscire a cercare di l'euro di l'euro. Ma il problema è che l'euro non è planeare l'euro di l'euro di l'euro. Ma lo so? Ho i miei i miei spi, e anche tra i rinnegati Dopo l'inizio della guerra abbiamo occupato la città mentre il colonel si tratta un pochino e la parte della città si troverà la città il colonel non è stupido sa che la guerra sarà la città di tutto Allora, perché la città si tratta la città? Questo è in la città Good question Maybe it wasn't the colonel who gave the order Something more is going on It's something we don't yet understand What about the UV lamps? Why does he want them then? Jack is hiding something For a while now he's been ordering way more lamps than he could possibly need And then some of those lamps always disappear No accounting for them once we deliver No accounting for them once we deliver Why would Jack skim UV lamps? And here friend The mystery takes flight Jack never got over the fact that he didn't defeat the butcher back when he had the chance Years ago He knew that if he attacked the dam the colonel would close the floodgates And the rising water levels would push the chemicals up out of the ground burning through everything that lives in this city It's been a stalemate for over ten years Each waiting for the other to make a move But then Someone turned the power on and something changed And the renegades attacked the canteen I'm not here for my health Juan I need the lamps to To find out what happened to your sister Right Aiden? I told you I got my spies Might be able to find something out about Waltz and your sister Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact I can even say with my resources I can find this person faster than Matt I actually doubt he's able to find them at all I can help you I can help you I can help you What do we do? I think someone seems to know even if I don't like it It's a nice thing But Help me Let's help each other Let's help each other Aiden Smart man Aiden Barely in town a minute And you've picked the right side already I'll give you the lamps That'll keep Matt from getting suspicious But then Go to the cathedral There's a guy hiding out there Total nut job But a tech savant Get him to fix this old piece of spy tech If we get it working We can bug the transmitter Jack wants to place on top of the VNC spire Have him do his thing By tapping Matt's comms We'll find out what he's doing with the extra lamps And knowing he's half the battle kiddo Come on Insomma Diciamo che il lavoro sporco tocca sempre a noi Come al solito Fino adesso che hanno fatto questi Una cifra San Paolo Benvenuti apporto Un'emocchiata Ciao 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 paolo andiamo accendere un cielo si che questa missione finisca presto sample ma sto giro finora niente c'è nato neanche un colpo che altro parlato si sempre a parlare stanno vabbè facendo avanzare la storia ma solo in questo punto c'è sta musica e te l'ho detto si senta appena appena ma che ci stanno i zanzari ma i morti no 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 per favore comunque sentito il caldo questa stagione peggiore per me io soffro anche io soffro tantissimo non so come fa a piacere il caldo che stai facendo non lo so dove dobbiamo andare di qua e non vedevo la porta ma non si fa mai giorno qui e vabbè tanto noi che ci frega no no non ci frega niente però guarda la signorina come viene di che dobbiamo andare oh ma che sto fuori c'è visto sono volato l'ara provato l'arma vabbè andiamo andiamo col palapendio dai sei col palapendio sei col palapendio tu vai col palapendio io vengo a piedi oddè ho lì c'è un urlatore ma è mio guarda vieni qua c'è un'altra parte giacca dombo ma secondo me tutti qualcosa ma cosa d'ho un concorso proprio caso non lo so non funziona non funzionano mi funziona un'altra indica un'altra senti in seguimento è cala Buon ragazzo, buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Ma dove vai? Eh boh Io vado qua No, mi sono buttata in mare Vai Ok Opla Io ce l'ho fatta A scappare E io No Dove sei? Ah sì, sicuramente ho terminato Sì 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 Posso Adesso salgo E me lo ritrovo davanti, guarda Oh Oh yeah Oh yeah Venga, venga Di qua, di qua Oh No Ma brutto coglione Oh Milavento Il seguimento è cominciato Come il seguimento è cominciato? Come il seguimento è cominciato? Aia Ah, corri, corri Oh Eh, questi qua vogliono degli abbracci, aspetta I grandi abbracci? Ah, io volo 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 via Ma vada lì, madonna Ma vada via il kill Vada via il kill Ma lo prende? Mi scusi, non prende Lo prende Ok Eh, però qua non va bene Aspetta Vai su Oh, ma che si escono dalle Li sto, sì 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 Li sto portando da te Ma, grazie Non ti sentire Io Ma io Non ci sto capendo una scena Allora E dai, le movite Questo manco corre più No, ma stiamo scherzando La cattedrale Io sono la cattedrale Sì, anch'io, anch'io Adesso troveremo la via Oh Ma guarda, mi escono dai tuoi piedi Ok, sono già Posto Plà Ok, per me il servimento è terminato Sì, anche per me Puzzigoni Qual è la via qua? Uso il distinto? Ah, forse qui Forse qui Aspetta Ah, secondo me questa è l'uscita Aspetta No, no, è bloccata No, al posto Qui si sta facendo giorno, eh Quindi Meno male, meno male, meno male Un passaggio Un passaggio Un passaggio Un passaggio Per arrivare lì Hai fatto il giro? Sì Non ho trovato passaggio Ah, forse da qua Aspetta C'è un'impalcatura qui Qui, qui Forse ecco da questa torre Ah, ecco, forse aspetta Da qua, da qua, da qua Bonus notte Ecco da qua Ah, ah Allora, da là si scende, vedete qua No Sì, qua c'è proprio, eh Mazzo, devo Non ci arrivo? Aspetta No Forse bisogna salire qua sopra queste cose? Aspetta No, qua, qua, qua Ecco qua No No, manco qua Aspetta, forse da qua Ah, ecco da qua, a qua Olè E poi da qua Si attaccamo Qua, qua Ah, ecco, di qua, di qua Allora, qui Qui c'è la stradina Voilà Olè Mollate, mollate Mollate Trova lo specialista in cattedrale Che è il prete? Che è? Eh sì, lo specialista Specialista No, è il... No, è il... Ehm... Un po' di fame Io solo voglio parlare Oh... Oddio Ah... Aspetta... Ok... Ti hai visto? E fatti saltare Sino... Un po' di fame Ok... Un po' di fame Un po' di fame mi va detective acqua ci stanno i notturni passare un'arena medicina o medicina raccoglie ma fallova medicina molodov aspetta se ci danno tutta sta roba si può darsi in un'arena kit soccorso militare piglia tutto medicina c'è un fight c'è un fight circa lancia da lancio la prendo la lancia da lancio come prima cosa lanciamo la lancia da lancio lancia da lancio medicina pronti sento dei passi da gigante ma no il mio stomaco e lui ha fame ci muove le spalle poi io boh si letto ma chi è? già del letto no me do me do venga venga tutto nel fuoco porti 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 ma mi scusi è una merdina oddio porti 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 ma ma lecco martello fa stragi ma si ma ti capisco che ogni tanto i colpi vanno a vuoto cioè però io ti colpisco problemi senti via il corso che deve essere preso 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 prendi prendi non posso vabbè letto solo siamo maniati a colazione sì tutta sta presentazione poi durava la santo stefano circa vuoto di nessuno siamo potocca di che ah che dice oh a curio like a beetle ignorant of the foot above i got a job for you my now i got a surprise for you i hope you like this room because it will be your final resting place ora arrivano pure devo trovare una fonte di energia è quella allora qua c'è un generatore o seguiamo i cavi seguiamo i cavi seguiamo il cavo eh ma qui il cavo va oltre ah no qua qua venga qui eccomi qui e tira a capo ma questi da dove vengono aspetta consuma un sacco di coso io però faccio questa tutto vodo vero eeeh qualcuno suona l'organ vabbè ah no spendi ah no spendi puoi andare oltre spendi qua ci stiamo allontanando dalla cassa però c'era una cassa che cassa dove dove non vedi guarda se io sto qua si sente la signora e dice c'è un detective a 48 metri ah ma sarà ma no ma sarà vedrai che la prenderemo a fine missione secondo me ah no ah no ah no ah no vada 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 dobbiamo distaccare stacchi 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 ok dobbiamo salire ma sta arrivando gente ma sta arrivando gente mi do pure io mi do mi vorrei affrontare ma poi ci ho ripensato è la nostra cavo che viaggio fa ah no lì è no è elettrificato elettrificato venga qui si dobbiamo staccare no ma venga qui venga qui dove sta a dove è? qua 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 io posso vincere la vostra casa sono un'ampadario su un'ampadario poi lampadario ah salta salta odd oddio va qua e tira e tira caro ok ok stavo cadendo tutti i voli mai mortacci ecco questo c'è una cosetta almeno ce l'ha detto venga di qua ok no non mi sta a prendere beh ok no caduta la zona chimica un posto ma cuscita e non senza di te non posso fare niente eh non posso uscire d'acqua un po' che cazzo è? aspetta forse da qua soppe morì soppe morì moia moia aspetta li posso trasportare no? aspetta come non crede e invece siiii magia ok mo sto cavo lo vogliamo staccare? eh beh qua dove sei tu? ascoltami ma dove sono? ah tutti questi serpentoni no secondo me possiamo andare da quella parte aspetta eh di qua arrivo eh arrivo eh ecco sulla scala bravo eh trovi la via trovi la via che io arrivo è lì è lì dove sta andando lei ok ah ma sei dall'altra parte eh sì eh tanto qua non possiamo andare da la sua parte forza la oppla qua è da nessuna parte ah qua si va eh ah eh allora mi sa che dobbiamo staccare l'altra eh su 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 ok ed è qua questo è un metà una ceppa vabbè detective madonna eh ci devi essere anche tu ok disattiva ma perché non ci danno più niente i cadaveri io mi lancio eh ooo io pure oa dov'è no dov'è no è qua no ma c'è gente lì ma forse non è qua scusa ah madonna eh allora allora dobbiamo salire qua sopra ecco qua qua c'è la scaletta ah bravo damosi damosi ok no non ha saltato scusi vado l'ho fatto oh ok qua venga qui dov'è ecchimi ecchimi è qua è qua sul lampadario no qua ci sta la scaletta già ah non l'ho visto e poi sul lampadario no sopra sopra al lampadario e poi ancora sopra piano piano eh perché qui se casca attenzione olè siamo arrivati sì sì per fortuna era ora cosa sull'ufficio sì prendiamo un po' di cose fermadetti c'è una cippa c'è niente ah c'è la cassa ah la cassa hai da scassinare aspetta vadi vadi aperta prendi l'aspirina qui preso tutto mandi testa eh non c'è niente però che dobbiamo fare dobbiamo andare ancora più su? di qua di qua adesso la luce vedi la luce ah sì vedo la luce troppo sparafresciante sta luce sì in effetti allora di qua qua vada vada oddio salto della fede è il luogo giusto infatti oh è scomparso stava qui io l'ho visto eh giuro ho visto eh aspetta qua c'è qualcosa guarda nastro qui ci sono delle sacche e mi pare no qua c'è una cassa da dove si passa? però da qua eccola qua scassina media ci provo ma dai nel primo ero così brava eh eh vabbè dai forza poi mi metti ansia stai lì come un gufo no no io sono un leopardo ah giusto stai lì con un leopardo in acquato eh guardi è così semplice ho capito ho capito ho capito ho capito no 61 gamba da tavolo 61 cioè ma te li tieni le lame me le posso anche prendere la sporfina l'aspirina quindi va bene e se potremmo da si apriamo la porta taglie ancora ma ora siamo delle efficienti siamo dei grandi efficienti si imbecilli vabbè ma chi è questo che intanto si vede e sparisce è solo io mi sa ma no è uno pelato ah io vedo uno pelato che intanto compa no no leo leo aiut help me Matteo guarda si imbecille se sale uff un'altra porta un'altra porta guarda che ci un'altra mazza ci sorprenderà ancora che Aide è un deficiente eh te no che quindi sei un'assassin no ho venuto solo a parlare sei un ingegnero certo? ho un nome Kurt che vuoi? eh chiede a Kurt chi vuole ucciderlo vai ciao ciao qui 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 vuole sarà la rosario magari non penso che chi sei davvero sei un'altra 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 una si ha detto che hai un figlio? come tutto mi so come sento che in ogni una una che ha perduto a loved ok cosa che che vuoi che vuoi che che vuoi che parti le ti si 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 qui si 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 come sorpresa non mi piace sorpresi buona buona notte eh ma non finiscono la frase no infatti che luce madonna sparaflescia proprio ok trova il modulo blu preservatore della cattedrale no ma ah quelle lì eh sì quelle quelle della torre a sinistra no? ah ecco si ma sotto questa statua cosa c'è? della giustizia sì forse ci salutiamo ma sotto questa statua ah giusto anche perché è un'ora e mezza che stavamo eh infatti qua insomma bisogna già riposino è giusto è giusto è giusto va benissimo va bene alla prossima ciao a tutti ciao a tutti